Buonasera a tutti e a tutte, sono qui con Elena Marinelli e Elena Baiani. Elena Marinelli è uscita qualche settimana fa con la sua biografia su Steffi Graf con 66 Second, mentre Elena Baiani lavora con me a Zarina, che è la newsletter sullo sport femminile, che ormai ha quasi compiuto un anno. Ci siamo incontrate per parlare di sport femminile dal punto di vista di chi lo sport femminile lo scrive e prima di cominciare a parlare con le due Elena, mi piacerebbe un attimo ritornare sulle epigrafe che abbiamo scelto per questa puntata, che dice lo sport femminile non esiste, lo sport femminile non ha spazio, dello sport femminile non c'è niente da raccontare. Una di queste affermazioni è completamente vera. Chiaramente ci siamo incontrate per scoprire sostanzialmente qual è questa affermazione che è completamente vera e ci siamo anche incontrate per parlare della presenza mediatica dello sport femminile, che sostanzialmente è una presenza intermittente, sia per il fruitore, cioè per chi cerca di leggere informazioni sullo sport femminile, sia per chi cerca di scrivere di sport femminile. Prima di confrontarmi con le due Elena, vorrei partire da un aneddoto che ho scoperto proprio stasera in preparazione per questo incontro, che ha a che fare con la prima scrittrice che in maniera ufficiale ha scritto di sport, che pare essere Anna Maria Ortese nel 1955. Anna Maria Ortese ha seguito il Giro d'Italia insieme ad altri due scrittori, che sono Vasco Patrodini e Marcello Venturi, per l'europeo, e ho scoperto che durante questo Giro d'Italia, di tappa in tappa, qualche volta Ortese è stata costretta, diciamo così, ad intabarrarsi, a nascondersi, a coprire il suo capo, per nascondere sostanzialmente la sua identità di scrittrice, giornalista donna. Questo aneddoto mi sembra un punto interessante da cui partire, sostanzialmente questa situazione di incognito, incognito per due motivi. Sostanzialmente intanto perché, diciamo così, lo sport femminile ha una poca presenza mediatica e ci sono anche pochissime donne che scrivono di sport, rispetto chiaramente alla quantità dei giornalisti uomini. E poi perché le notizie di sport femminile mi sembrano che stiano sempre nascoste sotto una coltre di informazione sportiva maschile, che per molti aspetti a volte è persino fin troppo esauriente. Questo è un aneddoto mio personale, quest'estate nel tentativo un po' di fare di ricerca per i miei articoli, sono andata a guardare la home page della gazzetta dello sport e un po' per gioco ho voluto guardare a quale posizione della home page lo sport femminile si trovasse e ho dovuto scorrere un bel po' fino ad arrivare alla decima posizione, per poi scoprire che la notizia di sport femminile in questione era sostanzialmente la regina Elisabetta che va a caccia di cervi. Quindi questo è un aneddoto che dà un po' il polso della situazione in cui mi trovo io, ma immagino anche voi, ogni volta che cerco delle informazioni per scrivere di sport femminile. Quindi io comincerei un po' con voi due, magari con Elena Marinelli, Elena M, a parlare un po' delle nostre fonti, cioè dove cerchiamo le informazioni quando vogliamo scrivere un articolo o anche fare semplicemente una riflessione sullo sport femminile in via del tutto personale. Allora, intanto ciao a tutti e grazie, visto che siamo ospite di Zarina e quindi grazie. Allora, la domanda, intanto mi hai fatto molto ridere con la cosa della regina e i cervi, perché questa settimana è la mia settimana di The Crown, quindi io per questa settimana lo considero fermamente sport femminile, solo per questa settimana. A parte questo, no, allora, sulle fonti è un discorso secondo me molto interessante in realtà, perché io in generale sono, allora io ho 38 anni, quindi io ho vissuto il tempo in cui non c'erano Twitter, Instagram, i social, in cui gli sportivi non erano su Twitter, sui social in generale e non lo erano nemmeno i giornalisti e però nell'epoca di mezzo tra il digitale e quello che viviamo oggi c'era una cosa bellissima che erano i feed reader e io usavo tantissimo, ma in generale per sapere più o meno tutto quello che mi interessava sui libri, sullo sport, sullo sport ai libri e sulla politica in generale. E quindi io sono rimasta un po' a quel modo lì. Nel mio sapere generalista io mi affido a dei collettori che mi raccontano più o meno quello che è accaduto, ed è accaduto in generale sullo sport. Lo sforzo che faccio io, come raccontavi tu poco fa, è se voglio sapere delle cose specifiche su certi sport e su certi sport femminili. Allora, quando mi capita di scrivere di tennis, io ho imparato a cercare proprio avvenimenti e sequenze di cose che mi interessano in maniera specifica, cioè io non mi posso affidare a un giornale sportivo, a una rivista nello specifico, perché il tennis ha intanto una cadenza un po' particolare che dipende dai tornei. Allora, quando c'è di mezzo uno slam o già un torneo minore, chiamiamolo minore, diciamo un torneo meno importante da un punto di vista di attenzione, c'è già differenza, perché dello slam si parla tutti i giorni, dell'altro torneo a volte anche niente. Ti faccio un esempio banale di questi giorni, c'è stato l'ultimo torneo del tennis femminile che è quello di Linz, non ne ha parlato quasi nessuno, quindi io per sapere i risultati posso andare su Google, proprio digito VTA Linz e Google da scimmietta ammaestrata qual è, mi restituisce il risultato giusto, però non c'è nessuno che se ne ha occupato. Adesso iniziano le finals dell'ATP, quindi del tennis maschile e ci sarà sicuramente di attenzione. Quindi il tennis è un mondo che va un po' per sé e per tornei e quindi io sono costretta a cercare anche sul sito del torneo, perché il sito del torneo per esempio è molto più semplice da questo punto di vista perché mi dà esattamente tutto quello che mi serve sulla base per sapere cosa è successo. L'approfondimento invece è un po' diverso, l'approfondimento me lo devo ricostruire, quindi è un copia e incolla di tante cose, di un giornalista anche internazionale, soprattutto internazionale, quindi in lingua inglese che mi racconta cosa è successo di quel torneo, oppure posso andare a leggermi la cronaca della partita. Sulle partite femminili c'è sempre meno, c'è proprio meno spazio, cioè non ti parlo proprio di spazio sul web, quindi se prendiamo una pagina web non ci sarà mai lo stesso numero di righe e di parole spese per quella partita lì, specialmente ai primi turni, specialmente quando non sono tornei grossi, quando non succede una cosa specifica che ci fa interessare la maggior parte a tennis femminile. Quindi per me l'informazione base passa per forza dai siti dei tornei, dai siti delle associazioni tennistiche e dal mio feed reader che sta lì, che ha la pecetta tennis e che mi fa da raccoglitore di tutto quello che c'è, dalla gazzetta dello sport al Guardian. Poi è ovvio che io mi vado a leggere magari una cosa rispetto a un'altra seconda della fonte che mi restituisce quel reader lì. Io poi ho un problema con i social nel senso che faccio fatica a raccapezzarmi a un certo punto, per cui su Twitter si può trovare qualsiasi cosa, c'è l'appassionato che scrive, il giornalista che scrive, il fan X indeterminato che scrive, il tennista che scrive e quindi lì è tutto un mare infinito che però lascia un po' il tempo che trova secondo me. Mentre per esempio noto che su altri sport ci sono dei profili un po' più specifici, un po' più di riferimento rispetto al tennis in quanto tale. Quindi sì, la mia risposta è un po' da vecchia maniera, mi dispiace, non so se... Ma questo riguarda principalmente il tennis, ma nel caso in cui tu ti occupi principalmente di quello, però per quanto riguarda gli altri sport sostanzialmente immagino che anche tu ti basi sui profili delle sportive che segui, quei personaggi che magari ti interessano un po' di più immagino. Sì, sì, però è comunque l'informazione che passa attraverso profili anche personali, è sempre un'informazione legata a un risultato, a un momento della partita, cioè il gioco di Twitter di commentare una partita esiste anche per il tennis, esiste per il calcio quasi quotidianamente, lo vedo anche, non lo so, rispetto a qualche altro sport, quando ci sono che ne so, mi è capitato per dei campionati di nuoto, c'erano per i tuffi, c'era gente che twittava sui tuffi, quindi quel modo lì di commento che si è sostituito dalla visione condivisa, sì, però anche il tennista in quanto tale si ferma al risultato, il risultato nel tennis lo puoi raccontare come vuoi, la cronaca la puoi fare tutte le volte che vuoi, però non è l'informazione che alla fine interessa particolarmente a me, perché appunto basta Google per un'informazione sul risultato, o un generalista qualunque, anche non lo so, tennis world, oppure il Guardian riporta costantemente i risultati di tennis, per esempio, la stampa inglese è molto attenta al risultato, esattamente come noi sappiamo Sampdoria Cagliari quanto hanno fatto una domenica qualunque di calcio e ce lo troviamo sull'home page in alto di qualunque quotidiano nazionale, diciamo, senza che sia necessariamente sportivo. Quindi il mio problema proprio col social è questo, il profilo della tennista lo segui, ma lo segui secondo me, in realtà lo segui per la conoscenza del tennista e per avvicinarti anche nel momento in cui magari ti interessa approfondire una partita che ha fatto, perché il tennis è uno sport di squadra fino a un certo punto, perché sono massimo due e quindi l'interesse al singolo è importante quando tu devi scriverne. E quindi il punto poi fondamentale per me è quello, cioè il discrimine fondamentale per me è quello. Beh sì, sostanzialmente la stessa cosa vale anche per la woman BA, che è chiaramente uno sport sentitissimo negli Stati Uniti e quando io cerco informazioni, magari non so, è lunedì mattina il giornale che vado a guardare il New York Times nella parte sportiva e so che lì trovo le notizie che sto cercando, esattamente quelle che mi interessano. Quindi secondo me è dovuta anche a una questione localizzata, così come il tennis in Inghilterra è molto sentito come sport nazionale, allo stesso modo la pallacanesso negli Stati Uniti è sentita in maniera molto forte. La cosa interessante però è che in Italia tutte quelle persone che hanno come dire un sentimento verso uno sport che non è lo sport nazionale, dove cercano queste informazioni? Magari Elena vuoi dirci qualcosa anche tu su questa questione? Ma per la mia esperienza vale molto diciamo la parola, cioè l'immagine di Anna Maria Ortese in incognito, cioè per quanto mi riguarda è il simbolo dell'informazione sportiva al femminile in Italia. È un'informazione in incognito, cioè un'informazione che non corre in mainstream, anzi che si va nascondendo un po' dietro varie diciamo nuance dell'informazione che in gran parte si svolge in rete. Anch'io vengo da una giovinezza in cui la rete non c'era e praticavo uno sport che possiamo definire di nicchia, la pallacanestro ed era veramente molto difficile trovare informazioni del mio stesso mondo, al di là della nicchia che avevo attorno e della rete di persone che avevo intorno. Ma di fatto è vero che in Italia l'informazione sullo sport femminile non passa tra i canali principali, a meno che non ci siano veramente imprese che vanno oltre, cioè l'interesse per lo sport femminile particolare, ma si qualificano come imprese sportive di altissimo profilo. Del calcio femminile penso che nessuno sapesse nulla, fino a che non ci siamo accorti di avere delle giocatrici straordinarie, un'ottima allenatrice e una squadra che è stata in grado di arrivare ai quarti di finale di un mondiale. Ho letto che il livello del calcio femminile italiano fino a pochi anni fa era quello paragonabile all'Hichtenstein maschile, cioè qualcosa che manco esisteva, insomma un puntino sulla cartina geografica. E invece ci siamo accorti che abbiamo un ottimo campionato, delle ottime giocatrici eccetera, ma solo nel momento in cui queste giocatrici hanno fatto qualcosa di straordinario. Chi volesse seguire, chi si fosse incuriosito al calcio femminile prima di questa impresa, probabilmente avrebbe fatto fatica a trovare i risultati su un qualsiasi organo di informazione maggiore. E anche io ho fatto la prova che ha fatto Giorgia, la prova della Gazzetta dello Sport, che potrebbe essere un test da ripetere a cadenza regolare, tutti i giorni. Per divertirci tutti, l'ho fatto ieri sera e vi sono posta la domanda di quante donne sono nominate nella home page della Gazzetta dello Sport e non ci volevo credere perché non sono nemmeno poche, sono cinque, ma il problema è chi sono e me le sono segnate perché veramente non volevo crederci. Allora la prima, la più in alto che si vede è la mamma di Joan Mir, che è l'attuale campione di MotoGP, viene nominata la mamma perché è una bellissima signora, è molto attiva sui social ed è una stilista anche di Nadal eccetera. Quindi non è una sportiva, è la mamma di uno sportivo, una signora molto bella e molto attiva sui social. Sempre nella stessa striscia in alto c'era un filmato preso da Instagram dell'allenamento in palestra di Diletta Leotta, che per chi non lo sapesse è la conduttrice di Dazon, d'accordo? Quindi anche lei non diciamo proprio non una sportiva. Terza in ordine era Vandanara che è la moglie di Cardi, un calciatore famosissimo, però Vandanara non è una sportiva, è semplicemente una donna molto bella che invade i social delle sue immagini e per questo è stata citata dalla Gazzetta dello Sport. Le uniche due sportive citate sono Larissa Iapichino e un'altra nuotatrice Benedetta Pilato. Perché sono citate? Perché si supportava un articolo su Yannick Sinner che ha appena vinto il suo primo torneo ATP e a sostegno di questo articolo si voleva dimostrare che insomma c'è una nuova generazione di atleti molto promettenti, effettivamente tutti loro lo sono, però diciamo la scintilla è stata la vittoria di Sinner. Ecco questo per dire cos'è il mainstream in Italia, come viene trattato lo sport femminile, anzi le donne in generale in Italia, cioè fondamentalmente non sportive e quando sono sportive sono un po' a traino di una notizia che però riguarda un uomo. Quindi per tornare poi al mio personale, a come mi documento io, beh la mia situazione è molto simile a quella della mia omonima Elena, nel senso che sono notizie che uno si deve andare a cercare, sono notizie che uno deve crearsi, deve forse prima crearsi addirittura una storia e poi andarsi a cercare le notizie della storia che vuole raccontare. Ha ragione Elena, sui risultati probabilmente più o meno ci si arriva a tutti, persino la gazzetta dello sport, forse nell'ultima pagina, mette i risultati degli sport attenzioni. Però il punto è, quando noi vogliamo un approfondimento che non sia la biografia di un atleta, quando vogliamo un approfondimento, quando vogliamo una critica su queste giocatrici, su certe imprese sportive, ecco lì diventa molto difficile, in Italia. Per scrivere su Zarina, dovesse citare una sitografia, sarebbero quasi tutti i siti stranieri. È molto vero che ci siano poche donne che scrivono di sport al femminile, ma mi permetto di dire anche molti pochi uomini, in realtà si scrive poco di sport al femminile. Forse alcuni sport sono trattati un pochino meglio, ha uno statuto particolare, la pallavolo femminile in Italia, sostenuta dal fatto che è lo sport femminile più praticato in assoluto. Nelle scuole? Eh sì, tutte le scuole più o meno hanno una rete da pallavolo e quindi questo sicuramente porta più attenzione allo sport femminile, è da questo tipo di sport femminile, con qualche caratteristica particolare di cui parleremo dopo. Forse non è trattato malissimo il tennis, anche perché mi permetto di dire che la prima giornalista, la prima telecronista sportiva è stata una telecronista di tennis che è stata Lea Pericoli. E quindi forse questo ha acceso qualcosa in più sul tennis al femminile, ma non sarebbe stato così se non avessimo avuto dei personaggi straordinari come la stessa Lea Pericoli giocatrice e come le tante giocatrici che poi hanno puntellato la storia del tennis. Però, di nuovo, probabilmente se Francesca Schiavone non avesse vinto il Roland Garros, tanto dell'interesse verso il tennis femminile, tanto della lente puntata sul tennis femminile, ce la saremmo un po' persa. Quindi, per quanto mi riguarda, le fonti sullo sport sono in gran parte su internet, in gran parte fonti dirette, quindi le federazioni, le pagine Instagram, le singole atlete. Tutte queste fonti che ci danno le notizie, anche in tempo reale, perché è molto difficile anche sapere in tempo reale come si svolgono i tornei. Mi sono accorta, sempre guardando la gazzetta dello sport, che mentre dei tornei e delle competizioni al maschile hanno una fase di presentazione, una fase di cronaca e una fase di commento, molto spesso per il femminile le prime due fasi saltano. Sicuramente non c'è una fase di preparazione, raramente c'è una fase di cronaca, se c'è un buon risultato c'è una fase di commento. Ecco, per tutto il resto bisogna cercarlo e credo che questo, per noi che scriviamo, diciamo che è una difficoltà che si può superare grazie alla rete, il vero problema è che così non si cattura l'interesse magari di uno sportivo che accanto a delle notizie di pallacanestro maschile e magari potrebbe essere incuriosito a approfondire anche la pallacanestro femminile. Le notizie sul femminile bisogna sapere che ci siano, se no nessuno ti dice che ci sono. Esattamente, quindi la posizione è sostanzialmente una posizione ancillare, come viene fuori anche dal discorso che facevi tu di Sinner, che con un colpo solo ha abilitato due notizie di due sportive. Però, a proposito di quello che dicevi tu prima, sulle fonti dello sport, io mi ricordo quando ero piccola, sono in una fase intermedia fra voi due, quindi quando ero piccola compravo Super Basket, che è questo giornale di pallacanestro, che non so se esista ancora in versione cartacea, e lo sport femminile, la pallacanestro femminile, aveva, non so, cinque, sei pagine centrali, scritte con una sciatteria incredibile, con delle foto super sciatte anche loro, però in questo modo sostanzialmente, probabilmente anche il giornale si metteva un po' l'animo in pace e penso che questo sia un po' anche quello che fa la gazzetta, no? Di, di, esatto, sostanzialmente di mettersi un po' l'animo in pace, perché quello che riguarda i risultati, secondo me non è un problema, come dicevate voi, basta cercare su Google e il problema è risolto, il problema però è quando qualcuno ha un bisogno, anche di tipo, magari, letterario, biografico, di leggere un pezzo lungo, ad ampio respiro, sulle sportive, che non per forza deve essere legato a, diciamo così, ai numeri, alle prestazioni, ma molto spesso, secondo me, è anche importante sapere la storia, no? Delle persone che scendono in campo, che vincono le medaglie. A questo proposito, infatti, mi viene in mente, proprio in questi giorni, il 12, l'11 novembre, il 12 novembre è uscita la biografia di Megan Rapino, One Life, che ha avuto, diciamo così, un grandissimo hype su tutti quanti i social, perlomeno sul mio feed, visto che io seguo moltissime sportive, quindi probabilmente anche quella è una specie di bolla in cui tutti quanti poi si ricondividono e magari fuori da lì nessuno lo ha letto. Però questo aspetto si collega, diciamo così, a un altro argomento super importante di questa questione, che è quando lo sport femminile fa notizia. Cioè, detto che c'è poco spazio, quando c'è questo spazio, chi riesce ad entrare in quello spazio e ad occuparlo? Allora, la mia sensazione è sostanzialmente che si tratti o di grandi sportive, come chiaramente Federica Pellegrini o, non so, Serena Williams, oppure di persone, di giocatrici, di donne, che oltre ad essere delle grandi giocatrici, sono anche un po' personaggio. E questo chiaramente è il caso di Megan Rapino. Lei ha una storia, adesso sto leggendo in questi giorni il libro, però ha una storia, come dire, al di là della storia sportiva, è una grandissima campionessa, però è anche una donna che combatte moltissimo per i diritti civili, è una donna che si è scontrata a viso aperto per tutto il tempo con Trump. E come dicevi tu, Elena, qualche giorno fa, non è magari neanche un caso il fatto che la sua biografia sia uscita proprio dopo le elezioni americane. Probabilmente se Trump avesse vinto quelle elezioni, anche l'uscita di quel libro sarebbe andata comunque in maniera diversa, perché lei, quantomeno nell'ambito sportivo, è una donna che si scontra molto apertamente nei confronti della politica di Trump. Ma secondo me l'aspetto importante è quando ci è data la possibilità di scrivere delle sportive, perché questa è anche una questione, perché scrivere di sport non è sempre semplice proporre un argomento e sentirsi dire, ma sì, dai, scriviamo un bel pezzo su questa cosa. La maggior parte delle volte è proposta 1, no, proposta 2, no, proposta 3, sì, dai, ok. E in genere chiaramente è sempre quella che tu metti perché sai che probabilmente quella cosa lì andrà, come dire, in porto, però nel tuo cuore magari tu vorresti parlare nel tuo cuore di un'altra cosa, ma sai che in questo momento storico non è possibile. Quindi vorremmo sapere come vivete voi questa cosa. Vado io? Sì, sì, vai tu. Allora, io, scusate perché mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi tu, Giorgia, di quando uno deve cercare, cioè, hai un cuore qualcosa ma non riesci a parlarne, che poi per esempio è il motivo per cui io un anno fa mi sono detta, vabbè, dai, allora me lo faccio da sola e mi ho iniziato a fare un podcast che ascolto io, me stessa e qualche altra persona, ma va benissimo perché era una cosa proprio fatta per quel motivo lì, perché c'erano delle, molto spesso, delle cose che, dei racconti, come dici tu, dei personaggi di che scende in campo, che poi alla fine è molto interessante quando si parla di sport, è quasi sempre interessante quando si parla di sport, che stavano lì. Io, allora, il punto fondamentale, secondo me, come giustamente diceva anche Elena, la questione ancillare entra anche rispetto a cosa è importante, cioè, è sempre il solito circolo vizioso, no? Cioè, tu dai dell'importanza a un argomento perché in quel momento ne parlano tutti, allora, per me, quest'estate a settembre è stato il momento di Naomi Osaka che fa la sua battaglia per i diritti della minoranza afroamericana, no? E quella cosa lì era quasi più importante dello US Open in generale. Cioè, questa ragazza ha 23 anni, ha una storia personale interessantissima, bellissima, familiare, molto interessante, ha vinto uno US Open nel 2018, il primo suo US Open contro Serena Williams, piangendo, poverina, perché è stata una tragedia, esatto, e nessuno glielo ridarà mai. Ha vinto l'Australian Open a seguire, però lo US Open quest'anno era il suo terzo slam, cioè ha 23 anni, però parliamo delle mascherine, che va benissimo. Cioè, lei l'ha fatto per quello, perché bisognasse parlarne e quindi è giusto così. Però lei, giustamente, dice, io sto facendo una cosa che per me è importante fare e la farei come se camminassi per strada, no? Cioè, ci si dimentica che sono persone che hanno le loro idee, che hanno dei momenti in cui hanno bisogno di esprimere quelle idee, anche sul campo sportivo, che sia di tennis, ma in quello stesso periodo c'era il basket in America che faceva la stessa cosa. e quindi, voglio dire, se tu sei inserito in una comunità, in un contesto, chi se ne importa se sei uno sportivo o fai l'idraulico, appartiene a una comunità e qualcosa da dire. Lo sportivo, invece, sta un po' lì che deve far divertire, tirare due palline, due racchettate o due colpetti con la palla e fine della fiera. Per esempio, io noto tantissimo la differenza fra anche il modo che hanno di stare magari per esempio sui social network i tennisti ma anche gli sportivi in generale italiani rispetto a quelli statunitensi ma anche quelli del Sud America. Cioè, lo stesso... Mi viene in mente anche qualche calciatore dell'ultimo passato, no? Maschio... Mi viene in mente qualche calciatore maschio in questo momento, però non solo. che in Italia aveva un atteggiamento però in realtà sudamericano quindi confrontandosi con altri problemi quotidiani, altri problemi politici o altri problemi sociali li gestisce in un altro modo. Qualche giorno fa leggevo a proposito dell'uscita di un suo libro di Claudio Marchisio che raccontava che secondo lui c'è un problema di parola allo sportivo. Cioè, lui è stato un grandissimo sportivo una grandissima bandiera della Juve è un grandissimo tifoso della Juve lui stesso fa il tifoso fa l'imprenditore adesso però è uno che ogni tanto sui suoi social scrive fa la pubblicità ad Armani potevo dire Armani e scrive e scrive anche però che quando una nave nel Mediterraneo affonda per lui è un problema e questo molto spesso è un problema per chi legge per chi legge Marchisio tutti i giorni per chi è Juventino o non Juventino tifoso di calcio o no è un problema spesso a me fa piacere per esempio io lo adoro e mi fa piacere sapere che c'è una persona nello sport che può dire delle cose però lui per esempio lui stesso dice che quando era un calciatore faceva fatica in Italia si fa fatica e si fa fatica perché tu devi fare lo sportivo ti devi allenare devi far vedere che sai fare delle cose c'è il risultato la partita il commento quando lasci lo sport se sei uno che ha voglia forse l'allenatore e basta tutto il resto non ti interessa secondo me invece per esempio adesso lo direte voi meglio di me sicuramente però negli Stati Uniti certi sport come il basket o altri anche l'hockey forse mi sembra di ricordare qualcosa hanno un'apertura nei confronti della società e le stesse per esempio le stesse alcune tennis cioè Serena Williams ha fatto le sue battaglie contro il razzismo durante la sua carriera Naomi Osaka le fa tuttora non lo so Martina Nabratilova per dirne una grandissima che si è scontrata addirittura con 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 l'Unione Sovietica e si è voluta naturalizzare l'America cioè lei ha fatto delle questioni politiche nella sua carriera erano altri tempi erano la fine degli anni 70 gli inizi anni 80 a un certo punto gli anni 80 è come se avessero forse fatto vedere un'altra cosa hanno rappresentato lo sport in un altro modo e noi ce lo siamo portati un po' dietro questa cosa qui adesso forse i giovani stanno cercando di riappropriarsi degli spazi e questo secondo me è molto interessante molto molto bello ognuno per sé ovviamente non lo so mi viene in mente anche qualche tenista australiano che durante l'Australian Open si è esposto rispetto alla condizione climatica agli incendi eccetera stavano giocando un torneo importantissimo per il loro poi nel loro paese e si sono esposti rispetto al cambiamento climatico rispetto a a una serie di temi che non sono del tennis che non nascono nel tennis e e le ragazze forse lo fanno un po' meglio lo fanno un po' più spesso e secondo me perché hanno bisogno di spazio ma io credo che l'aspetto che hai tirato in ballo tu sia molto importante tornando un attimo alla questione della woman NBA quest'estate e tutta la questione della Black Lives Matter le giocatrici sostanzialmente hanno cominciato a fare anche loro e loro sciopero sulla scia dell'NBA partendo dall'NBA perché chiaramente l'NBA ha una potenza mediatica molto più grossa e quindi probabilmente loro hanno aspettato che gli uomini per primi facessero quel passo ma secondo me la questione è dovuta non solo alla questione politica statunitense cioè negli Stati Uniti c'è un problema con la popolazione afroamericana molto più forte rispetto che so a quello che ci può essere in Italia sicuramente questo è un aspetto il secondo aspetto però secondo me è che lo sport negli Stati Uniti è strettamente legato all'istituzione dell'università e quindi l'università di per sé è un ambiente in cui si fa cultura in cui si fa studio e se tu metti nella stessa persona nello stesso contenitore questi due elementi che sono lo sport che è la cosa che serve meglio che può sostistere e continuare a desistere solo se tu continui a studiare chiaramente poi le proporzioni sono variabili questo è chiaro non entriamo nel caso specifico però se tu metti questo presupposto è chiaro che anche la persona che fa sport è costretta a confrontarsi con un certo tipo di cultura con un certo tipo di politica e sente questa cosa qui come una cosa vitale cioè come dicevi tu prima no Miosaka portare mascherine dentro il campo come le porterebbe fuori dal campo perché per lei stare dentro il campo o stare fuori dal campo è esattamente la stessa cosa cioè la sua fase è vitale è sullo stesso livello io credo che un atleta sia lo stesso atleta anche quando sta in casa sua cioè è una forma mentis che ti porti costantemente dietro semplicemente quando sei in campo hai un pubblico c'è il tuo allenatore un'altra situazione quindi io credo che questo è dovuto al fatto che in Italia lo sport intanto è visto anche esso stesso come una facoltà come qualcosa di ancillare si fa per scelta se vuoi quando sei un bambino cominci nelle scuole stesse non c'è nessun rispetto per lo sport nella mia scuola l'ora di ginnastica era un momento per fare i compiti dell'ora dopo sostanzialmente e quindi quando vai avanti così e poi c'è qualcuno che riesce a diventare uno sportivo importante e che quindi porta con sé uno spazio è una potenza mediatica incredibile è una cassa di risonanza incredibile ma non gli ha insegnato ad usare quella cassa di risonanza in maniera corretta è chiaro che poi c'è un cortocircuito e questo secondo me è quello che accade un po' in Italia cioè i nostri i nostri sportivi hanno tantissimi follower hanno tantissimo spazio mediatico però il povero Marchisio forse è l'unico che si prende la briga di parlare della situazione politica quando quando mi hanno chiesto un confronto fra woman NBA e sportiva italiana quest'estate io purtroppo ho dovuto alzare le mani e dire no non mi sembra che ci sia nessuna sportiva italiana che si stia prendendo a cuore qualche tipo di battaglia politica così come avviene negli Stati Uniti ma io questo non lo non lo ha dito alla persona in sé lo ha dito al sistema secondo il quale in Italia lo sportivo è quello che prende a calci il pallone o che butta la palla del cesto poi se fa un errore grammaticale non importa perché tanto deve saper fare il suo sport ma questo è quello che creiamo noi cioè quello che crea il pubblico e il pubblico di 60 milioni di abitanti circa è un numero enorme in confronto al numero limitato degli atleti quindi io questo credo che questo sia un aspetto importante anche del del punto del fare un fenomeno dell'atleta Elena V dici tu avete toccato molti punti allora io sono d'accordissimo e cerco magari di declinare quello che avete detto poi più nello specifico del femminile ha assolutamente ragione Elena quando dice che lo sport difficilmente ha parola questo è verissimo gli sportivi difficilmente hanno parola un doppio gradino è per le sportive perché sono sportive e sono donne e quindi è una doppia negazione no? hanno poca parola in quanto donne hanno poca parola in quanto sportive e soprattutto in Italia perché appunto il caso di Meg Arrapino negli Stati Uniti Meg Arrapino fa un programma in tv dove spiega la sua visione degli Stati Uniti e invitati ci sono dei politici è qualcosa che da noi è inconcepibile ma lo fa sulla ABC ora non vorrei dire una rete sbagliata ma mezz'ora con cioè lei tra i suoi contatti più frequenti c'è Alexandria Ocasio Cortez che è la deputata probabilmente più famosa della della sinistra americana quindi è un livello di impegno e di voce che in Italia è assolutamente inconcepibile per rimanere a Meg Arrapino la sua compagna su Bird ho visto ieri ha fatto uno spot su Instagram su come si indossano le mascherine e questo dà forse anche con un esempio banale però dà la cifra di quanto all'estero comunque le sportive abbiano un ruolo anche sociale e quindi chiaramente la loro visibilità si è molto molto moltiplicata partendo comunque da un'eccellenza sportiva che insomma su Bird ha vinto quattro ori olimpici non è probabilmente l'atleta più medagliata della storia americana della palacanestra detto quindi sicuramente in Italia c'è un problema di parola senza dubbio secondo me c'è un problema di modelli che deriva anche da questo mentre molto spesso gli sportivi uomini anche nella limitatezza dell'essere atleti diventano spesso dei modelli il modello Marchese è un modello a suo modo è anche un modello abbastanza come eccezione Maradona può essere un modello per altri motivi Pelelo è stato per altri motivi ancora eccetera eccetera lo stesso ruolo per le donne è difficile da identificare ancora difficile da identificare penso che va appunto sulle donne si incrocino due sguardi deviati uno che riguarda le donne in generale e l'altro che riguarda lo sport e che si moltiplicano e moltiplicano diciamo i fattori di invisibilità in un certo senso delle donne io credo che ci sia anche un altro problema che riguarda proprio come sono viste le donne in generale in genere se le sportive hanno spazio spazio diciamo occasionale non legato a un'eccellenza sportiva ce l'hanno non per il fatto di essere sportive cioè magari perché sono particolarmente avvenenti magari perché hanno partecipato a un programma tv magari perché hanno fatto altro magari perché sono mogli di magari per mille altri motivi ecco questa è una è un'altra cosa cioè a volte quando una donna ha spazio lo ha prima di tutto in quanto personaggio e poi come sportiva è difficile considerare in generale in Italia una donna semplicemente come atleta che ha una che fa delle competizioni e che ottiene dei risultati questo è qualcosa di abbastanza difficile non è sempre così ci sono delle eccezioni in questo senso però effettivamente una donna per trovare spazio e per trovare uno spazio diciamo un po' più largo dei confini che hanno a che fare con la propria attività di sportiva ecco deve avere un plus in qualche maniera cosa che nessuno chiede a un calciatore nessuno chiede visto che c'era ieri sera la serie su di lui nessuno chiede a Francesco Totti di essere diverso dal calciatore che è e anzi e va benissimo così e tutti i media se ne interessano e se ne sono interessati basta il fatto che sia uno sportivo molto spesso per le donne non basta molto spesso per le donne questo non basta perché abbiano uno spazio lontanamente comparabile a quello di sportivi maschili uomini scusate ci deve essere qualcosa in più ci deve essere un fattore che le rende anche personaggi in qualche modo vale anche per me garrapino negli Stati Uniti però in un contesto in cui comunque le donne e ha ragione Giorgia essendo comunque lo sport inserito in contesti scolastici universitari per cui come fanno sport di squadra le donne nei collegi lo fanno anche gli uomini quindi è perfettamente normale per gli Stati Uniti che le donne facciano sport esattamente come gli uomini ecco per noi il contesto è un po' più difficile ed è un po' diverso sono d'accordo ancora una volta con Elena quando dice che magari le sportive più giovani piano piano stanno acquisendo voce ieri sera ho visto uno spot di chiedo scusa non conosco esattamente il nome della serie ma credo che ci sia un telefilm sulla Rai che parla di un ragazzino di colore credo che ci sia anche Sofia Loren lo spot di presentazione di questo di questo telefilm credo vede una serie di persone diverse sportive e Paola Egoni che è una pallovolista italiana di colore e omosessuale che supporta diciamo la storia di questo ragazzino dicendo che potrebbe essere la sua storia quindi immagino che la storia parli di integrazione eccetera ecco piano piano qualcosa sta emergendo perché la nostra società sta cambiando sta cambiando e piano piano come si allargano le maglie diciamo della nostra società probabilmente piano piano si stanno facendo largo anche delle sportive che cominciano a far sentire la propria voce partendo dalla propria eccellenza sportiva Paola Egoni probabilmente una delle cinque migliori giocatrici di pallavolo al mondo in questo momento però fa anche sentire la propria voce e forse Paola Egoni potrebbe diventare un modello davvero un modello per tante ragazze a livello di possibilità di integrazione a livello di identità personale a livello di vita appunto personale sentimentale oltre che di vita sportiva però certo ecco per tornare a quello che dicevate voi risulta sempre molto difficile che i media considerino una donna esclusivamente come sportiva perché una donna abbia spazio quel poco spazio che ha come dicevamo prima ci vuole un plus ci vuole qualcosa di vario genere questo discorso secondo me si ricollega un po' a come viene visto lo sport in Italia cioè in generale sia da un punto di vista dello sport maschile che di quello femminile io ho la sensazione che per chi abbia come dire un gusto di lettura anche un pochino più legato alla letteratura che abbia interesse all'approfondimento ci siano poche possibilità nel senso che mentre per esempio negli Stati Uniti c'è una grandissima produzione di letteratura sportiva ma anche di long form su giornali di ampissimo respiro ho fatto delle ricerche su Becky Hammond che è la prima donna ad essere diventata assistente coach in NBA e ho trovato due articoli bellissimi uno su New York Times e uno sul New Yorker quindi scritti con una grandissima cura non ho trovato altrettanto per esempio in ambito italiano e quindi questo ogni volta mi fa porre un po' la domanda magari il punto è che in Italia non si riesce a considerare lo sport come un oggetto culturale come un tema degno di essere trattato con un certo gusto di scrittura ma l'altra faccia della medaglia è anche il fatto che per lo stesso motivo non si chiede agli sportivi di avere delle peculiarità di tipo intellettuale o politico perché lo sport non ha niente a che fare con la cultura io penso che questo sia un po' l'altra faccia della medaglia per me è interessante soprattutto capire come mai in un momento storico come questo in cui ci sono tantissimi studi di genere e diciamo così sono anche ad un livello come dire più accessibile anche per esempio su Instagram ci sono un sacco di piattaforme che trattano gli studi di genere in maniera super interessante anche super accessibile mi sono sempre chiesta per quale motivo nessuna di queste scrittrici o intellettuali o scrittori o intellettuali si fosse occupato dello sport poi ragionando mi sono risposta che probabilmente in Italia lo sport non ha questo tipo di nomea questo tipo di fama questo tipo di interesse voi come la vedete Elena M? Secondo me dipende cioè bisogna spacchettare in due questa questione qua una è quella economica che è fondamentale ma è una questione cioè i professionisti versus dilettanti passano attraverso il riconoscimento sportivo di quello che fanno quindi anche un riconoscimento monetario un riconoscimento che permette a uno sportivo di non fare altri tre lavori ma di concentrarsi sullo sport quindi di emergere quindi di migliorarsi quindi diventare ancora più bravo e quindi e quindi e quindi e quindi no? e la inesponenzialmente poi si va avanti così per le donne è ancora ancora diverso perché il problema dell'equal pay riguarda qualsiasi categoria che riguarda le donne il lavoro in fabbrica il lavoro in banca non lo so scusate ho detto una cosa che non so in realtà perché non lo so il lavoro nelle aziende e lo sport no? e quindi in realtà il punto cioè esistono nel 2020 sportivi maschi che ritengono che le colleghe donne facciano un altro mestiere facciano un'altra cosa facciano un altro sport e questo è il primo problema secondo me ed è un problema economico ok? poi c'è secondo me invece l'altro pezzo che è invece inserire il discorso dello sport insieme a tutto il resto come una categoria culturale come l'hai definita tu poco fa e quello forse semplicemente non so neanche se è un problema cioè la definisco come una questione di portare un'istanza insieme alle altre che quindi significa non preoccuparsi cioè ci sono una serie per esempio nei movimenti di femminismo moderni ci sono dei movimenti di femminismo che non interpretano soltanto un femminismo diciamo verticale che riguarda soltanto certi problemi ma interpretano il femminismo come un modo per riscostruire la società di riscriverla e in questo senso includerebbero automaticamente lo sport cioè qualsiasi categoria di minoranza o di un certo tipo andrebbe inserita in questo discorso quindi forse non è neanche un ragionamento di nessuno se ne occupa ma implicitamente ce ne occupiamo perché ci occupiamo della questione femminile in quanto tale ed è una questione che secondo noi riguarda tutta la società ed è importante per tutta la società e quindi è chiaro che si declina nella violenza di genere nelle qualpei nella metteteci nella visibilità nello spazio ai non lo so al potere e anche allo sport fate tutto l'elenco che viene in mente ma è chiaramente anche una questione sportiva e poi banalmente secondo me è un problema di visibilità cioè è proprio un problema di esplosione di visibilità tutto quello che succede traina dell'altro e il fatto che Zarina sia iniziata un anno fa secondo me non è casuale il fatto che il mio libro in 66 sia il primo libro di sport femminile e scritto da una donna non è casuale cioè c'è una maturazione ci si sta avendo una maturazione quindi probabilmente questo è il momento forse è una domanda più che un'affermazione che lascio a Elena così però no nel senso è una cosa che penso spesso per esempio io da un qualche tempo a questa parte quindi lo spazio è interpretabile anche in quel modo lì e anche chi se ne occupa quindi io raccolgo l'assist diciamo allora sicuramente c'è un problema lo sport anche negli sport che sono professionistici in Italia le donne non sono professioniste quindi calciatori maschi sono professionisti il calcio è uno sport professionista in Italia al femminile non è professionista quindi quindi in tutte in tutte le zone diciamo della nostra vita lo sport è qualcosa di ancillare e questo sicuramente contribuisce al fatto che non faccia cultura è un problema di visibilità sono assolutamente d'accordo volevo anche dire che c'è un'altra cosa che in un certo senso non aiuta mentre noi vediamo il movimento sportivo maschile comunque come un movimento complesso nella sua integrità le federazioni i campionati eccetera lo sport femminile è sempre episodico una squadra che fa qualcosa di eccezionale un atleta che fa una cosa eccezionale ma si fa fatica a vedere un movimento qualcosa però sta cambiando e secondo me aiuta molto il fatto che diverse società al maschile comincino a prevedere dei settori femminili ad alto livello è una cosa molto comune per esempio nel calcio inglese dove io sono testa l'ultima volta che sono stata a Londra c'è la pubblicità di una nota compagnia telefonica fatta con le atlete del Manchester United del Liverpool e del Manchester United femminile questo significa che una ragazzina che comincia a giocare a calcio può avere la maglia del Manchester United così come in Italia fortunatamente ed è un'ottima cosa da parte delle società sportive tipo la Juventus che hanno una squadra al femminile nella palacanestro questo ha un esempio glorioso che è quello della Reiner Venezia che è una società di assoluta eccellenza al maschile al femminile ma per esempio adesso si è aggiunta la Virtus Bologna e questo sicuramente aiuta a integrare lo sport femminile dentro il movimento necessariamente più ampio che è lo sport maschile e questo penso che prepara il terreno proprio a prendersi un pochettino più di spazio avere un po' più di visibilità far vedere che appunto dentro il grande movimento dello sport ci stanno benissimo anche le donne ci si può tranquillamente appassionare una partita femminile non solo una maschile e anche appunto che le donne sono in grado di competere ad altissimo livello in qualsiasi cosa vogliano fare quindi questo sicuramente è un aspetto io in questa sorta di nuovo di invisibilità culturale possiamo dire dello sport femminile vedo una grande potenzialità perché è uno spazio che dobbiamo creare siamo noi dobbiamo prendere la penna in mano e metterci davanti una tastiera e c'è un mondo ancora da raccontare ma da raccontare appunto non magari con lo spunto biografico singolo o per la curiosità di conoscere meglio la vita delle atlete che è benissimo ma farne proprio un elemento culturale cominciare a collegarlo con appunto il femminismo il femminismo inteso secondo me soprattutto come progressiva diciamo uscita delle donne da determinati da determinati canoni interpretativi io con Zarina una delle prime cose che abbiamo scritto parafrasando Simone de Beauvoir che diceva che donne si diventa perché uomini si nasce noi diciamo che atlete si diventa perché è una cosa da conquistare e quindi in un certo senso è uno spazio che è forse giunto il tempo di cominciare a prendersi da parte nostra che scriviamo e da parte delle atlete che forse sono nelle condizioni meglio di altre meglio di altri momenti di far sentire la propria voce secondo me c'è una difficoltà per esempio a me è sempre sembrato assurdo che nelle tanti temi del femminismo ci sia molto raramente lo sport è anche vero però che i movimenti femministi nascono in un momento in cui lo sport femminile era poco più che se direttantesco adesso figuriamoci nel 70 non era così strutturato come ora quindi forse anche adesso che comunque tutti i movimenti stanno crescendo il calcio per esempio è in grandissima esplosione come praticanti tanti altri sport hanno piano piano stanno prendendo piede ed è molto più facile per una ragazzina scegliere di fare calcio mentre ai tempi solo 20 anni fa poteva essere una scelta del tutto fuori dal comune adesso no quindi forse è il momento giusto per cominciare a raccontare queste cose assolutamente anche perché comunque basta semplicemente andare a toccare col dito un po' questa superficie che si scrossa subito un sottobosco di storie come dire allucinanti quest'estate ho parlato con un ragazzo che è un istruttore di rugby e mi raccontava che nel Sainazioni Femminile ora io non vorrei dire una cosa sbagliata ma credo che nelle Sainazioni Femminile la Nazionale Italiana sia arrivata quindi credo in finale e il capitano della squadra non era sicuro di poter partecipare perché aveva preso le ferie dal suo lavoro di magazziniera in fabbrica per andare a fare le partite e siccome erano arrivate molto oltre rispetto al livello che si aspettavano di raggiungere quindi dovevano restare più tempo lei non aveva più le ferie per giocare la finale o la semifinale quindi non lo so molte volte mi sembra che lo sport femminile sia anche caratterizzato da una specie di umanismo che quello maschile non ha cioè quando si parla con una sportiva femminile o si tratta della storia femminile in qualche modo vengono sempre queste storie di intanto battaglia e vittoria per arrivare al punto in cui puoi competere per lo sport che stai facendo e questo secondo me è un aspetto super interessante dello sport femminile perché dimostra chiaramente una come dire una grinta un desiderio fortissimo che sicuramente c'è anche negli uomini però quello degli uomini viene raccontato e quindi a me interessa che si racconti anche un po' quell'altro aspetto Elena siamo in chiusura Elena M se vuoi dire ancora qualcosa prima di chiudere ma io in realtà non specificamente nel senso che la cosa che mi sembra la cosa che secondo me anche parlando con voi non soltanto stasera ma anche magari le altre volte che ci siamo parlate la cosa che mi sembra più interessante che ci siamo dette è quanto conta partire dall'inizio rispetto allo sport femminile e quanto non c'è quest'inizio quindi la scuola il fatto che non c'è un processo che porta ad interessarsi allo sport femminile e il fatto che ci sono poche donne che sono anche magari nei nei ruoli di gestione di organizzazione di arbitri non lo so anche i fisioterapisti cioè tutto quello che sta attorno allo sport e quindi anche chi scrive ovviamente di sport perché la sportiva ma anche tutto quello che le sta attorno e quindi magari la sportiva la sportiva avrà un coach sempre quasi sempre maschio ma speriamo che ce ne saranno invece anche anche femmine come ci sono le coach che vanno a fare le MBA non la women MBA e quindi questo è un modello se volete che possiamo tenere a mente per aspirazione per aspirare al futuro Elena V qualcosa in chiusura io credo che anche questo discorso che abbiamo fatto oggi e appunto le varie iniziative che stiamo portando avanti vengano proprio così come stimolo non solo per noi ma anche per tante altre persone proprio a provare a scrivere di sport al femminile perché è veramente una miniera di storie come diceva giustamente Giorgia l'approccio delle donne nei confronti dello sport ma mi viene da dire mi perdonino magari i nostri amici maschi ma in generale l'approccio delle donne alla vita ha una complessità maggiore anche per il suo ruolo per esempio che riguarda la maternità maternità e sport forse non vanno troppo d'accordo in linea teorica però poi si vede che tante donne non rinunciano ad essere madri tante donne non rinunciano anche a quello che più tradizionalmente noi accordiamo ad una donna il fatto di essere anche madre e tutto questo genera storie genera storie il desiderio di maternità il desiderio di eccellenza dello sport sono tante donne che hanno fatto notizie anche per questo ma infatti faremo un'altra puntata sulla questione tema sport e maternità è molto importantissimo prima di chiudere perché sono rimasti veramente pochissimi secondi io vorrei fare un appello visto che abbiamo parlato tutto il tempo di donne che scrivono di sport eccetera eccetera se c'è qualcuna o qualcuno che vuole scrivere di sport femminile contatti ozzarina noi su instagram oppure erena marinelli su instagram e ce lo faccia sapere basta che non lo so manifestatevi fateci sapere della vostra esistenza perché c'è bisogno di persone che trattino questi argomenti io ringrazio Elena M Elena V è stato un piacere grazie a voi ci vediamo presto ciao ciao